che mezzo severino altro che caino 1 caino 2 inizio 13 eh sì se quella è bianca subito un bel sassetto eh sì questa è bianca e qua il giallo sul sasso giallo verde sasso cazzo questa questa che pianta è questa buca neve questa è la zona se tutti giallo quindi sasso allargato qui credo che siano due ore e un quarto che sono qua a fare un cazzo ah ok pensavo bene 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 eh mi sa che siamo un po' i primi della il problema è Jerry e quelli che organizza mi fregano sempre 10 mi raccomando perentorio partenza alle 11 11 noi sì quindi dentro di lì giù di qua sopra a sinistra sì 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 no ma non di qua eh sì quindi dentro qui su e poi la butto dentro giù di qua su alto qua giri giù sali qua così puoi fare il tuo coso o scendi o sali da dietro sui sassi da dietro? a di là a discrezione a discrezione vostra e poi devi salire lì scendi sali sali sulla terra sei dritto qua così puoi prendere il sasso e chiuderla chiuderla come volete non sono così bravo già eh no 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 ragazzi forse è meglio scendere l'unico che ha fatto il giallo l'ha fatto da stessa sassetto e fuori no di qua sono in riserva speriamo di riuscire a passare fuori sei in riserva? ma nel senso che ho un camparino ce l'ho dentro o lo zanno? no è due c'è il camparino dai c'è il riserva se il riserva di quello ci sono anch'io eh questa insomma riserva di quello ci sono anch'io fine